Commissario, ma come mai è così nervoso oggi? Ma che te lo dici che sono nervoso? Ti ci metti anche tu, Cridelli? Tutti parlano, tutti vogliono sapere. Che volete sapere? Io sono tanto calmo e tranquillo per i fatti miei sto. Guardi che ho un timbro. Lo so. Non voglio più fumare, non voglio fumare, va bene. Che c'è? Che c'è?